La SD Ragusa Calcio muove i primi passi. Gianluca Filicetti è il primo acquisto della società, classe 1977, centrocampista originario di Siracusa, un passato ricco di esperienza. Ha militato nel Modica Calcio per quattro stagioni di fila, nel Palazzolo e ancora Siracusa in D, Juve Sabia in C2 e Noto in D. È gioco da un bel po' di anni, quindi l'esperienza non manca e adesso ho voglia di andare in una piazza dove si vuole rilanciare, dove ha grandi stimoli per dimostrare che non è una piazza che merita questa categoria. È un modo d'orgoglio perché è una piazza molto importante e prestigiosa, quindi si aggiunge al curriculum un'altra piazza molto prestigiosa. Poi il bietto da visita è importante, il presidente, il direttore, il mister che è un ex amico in campo. Lei è classe 1977, a 40 anni potrebbe essere da stimolo e anche un punto di riferimento per i compagni un po' più giovani. Sì, sicuramente è un'età dove ti devi gestire al meglio sia fisicamente che mentalmente. Fortunatamente non ho avuto mai infortuni, quindi insomma sono abbastanza integro. È la cosa bella che comunque posso avere l'esperienza per consigliare ai giovani, insomma, gli errori che ho fatto io in passato.